praticamente il pacchettino dei coni gelato l'ha ribaltato vedi adesso visto che lo sto guardando oggi questa tradizione rurale è quasi solo alcuni anziani signori ancora fanno in casa il formaggio tipico di questa terra alla base di questo prodotto caseario c'è la produzione del latte che proviene quasi esclusivamente una popolazione catena anche tra le nuove generazioni oggi c'è ancora qualcuno che crede in una rinascita della produzione di questo andrea e andrea sono due giovani poco più che 30 anni che hanno deciso di vivere la loro vita a contatto con la natura dedicandosi prevalentemente all'allevamento di capri cilentane e alla produzione del cacio di cotta del cilentino andrea il marito di anna carla e cilentano dog insieme hanno un obiettivo ben preciso stiamo lavorando per il recupero della capra cilentana quindi abbiamo circa 20 sono le giovani e adesso stiamo salendo sopra dove si prenderanno per un po' e appunto insomma iniziamo a continuare a mangiare le capri cilentane non sono le più uguali e la consistenza di desparazza nella regione è che ogni momento grazie a tutti